Sono prossimi alla fine i lavori della posa del nuovo manto in erba sintetica allo stadio Marco Tomaselli di Pian del Lago. Una novità che riguarda anche il rugby oltre al calcio, tanto che la stessa Nissa Rugby ha espresso soddisfazione per l'ormai prossima conclusione dei lavori. E sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso anche il presidente della Federazione Rugby Sicilia Gianni Sarageno, il quale ha affermato. Dopo un'attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile, finalmente lo stadio Tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene. Un campo moderno, accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano, nazionale e internazionale. E soprattutto un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la Nissa Rugby. Il progetto aveva preso il via già nel 2017 e aveva visto anche l'interessamento della stessa federazione rugby e della società della palla ovale nissena. Ora si attende che il manto venga completato e poi gli appassionati potranno finalmente assistere alle prime gare dei vari campionati. La stessa Nissa Calcio, a causa dei lavori, attualmente sta disputando le gare di inizio stagione del campionato di eccellenza a Riesi.